su sopra l'isola la, lo vedi lì, la la, cassa la, tra l'altro lì, 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 lì e lì, lì, lì questo non mi ha acceso dai 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 tieni ancora per fuoco non ci sono pure ce l'hai qualche cura sono gli usciti ma appena mi muovo è una carandella mi facevi ridere perchè saltavi i caricati fino a quando non era manetta il pompa non ti conviene volevo distraccarmi la scheda è lì giù macchina la spada non te l'hai presa amici trovo la spada ma l'hanno presa l'hanno presa bastardi occhio occhio gente lì aspetta aspetta sono troppi sono troppi ma dove c'è carmi ma c'è gente dietro c'erano due però io potrei un po' ridere perchè quel cazzo di pompa fa ridere curati carmine è dove sì in due dovete andare ah vai oh oh a uno che ho fatto 121 un po' ma distrutto sta l'uomo sta l'uomo sta a favore con la spada sta andando in questa direzione qua mica a uno con quella skin di quel cartone animato l'ho distrutto a quello ah ma anche se non lo chiede è un po' di ciò che va magari stacco buonasera mamma stanno 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 stanno